benvenuti in un com nel video di oggi andiamo a lavorare massaggiando le linee energetiche del viso normalmente lo facciamo con un massaggio thailandese e oggi lo mostreremo sul lettino inizieremo dall'alto verso il basso quindi come prima linea iniziamo dal punto di partenza dei capelli che scendono scivolano lentamente fino alla tempia e adesso inizierò a fare dei piccoli cerchi linea 2 abbasso il dito dalla linea precedente e faccio scorrere il mio dito verso la tempia e premo qui tre premo non molto forte fino a quando sento qualcosa alla fine vado al punto delle sopracciglia e scorro di nuovo abbiamo quindi realizzato quattro linee 1 2 3 e 4 adesso andremo appena sotto gli zigomi e per questo premerò proprio qui andrò intorno allo zigomo e ora rimarrò nella zona della mascella possiamo ripetere questa fase circa tre volte poiché è abbastanza rilassante adesso andiamo solo sotto il labbro superiore premo e di nuovo premo sulla mascella ora il labbro inferiore appena sotto e premo e infine solo il mento posso premere qui e fare una linea come se fosse una mini pinzetta e allo stesso tempo posso ripetere fino arrivando in cima quindi ripeto proprio da sopra 1 2 3 4 poi sotto gli occhi e intorno allo zigomo e una volta che ho finito come sempre puoi rilassare massaggiando un po la testa potrai ripetere queste battute in base a quanto vuoi investire nel tuo massaggio 10 15 minuti o forse 5 potrai vedere e decidere se fare più o meno ripetizioni spero che la lezione di oggi ti sia stata utile lascia un like e iscriviti al nostro canale per altri video alla prossima volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti